perché non la me è pieno di bambini che muoiono al primo giorno di vita ma è stato i genitori questo è il mio dolore io me lo devo portare il mio fardello il signore mi ha dato una sfida che io posso magari non vincere ma l'importante è mettercela tutta combattere sempre